Ma guarda sti puttane, mangia e ne feta più, manco un uovo. Signore, signore, scusi, controllo. Che ci sta? Buongiorno, buongiorno. Cosa t'ha da mangiare alle galline? Che t'ha da mangiare alle galline? Che vuoi da mangiare alle galline? Quello che avanza dentro casa, gli scarti di casa. Che vuoi da mangiare alle galline? Cosa è che t'ha da mangiare alle galline? Quello di casa. Ma qui siamo al Medioevo. Non va, non va, non va. 100 euro di multa. 100 euro? Ma che t'hai imbriagato? La legge è legge. Signore, signore, di folco? Chi è? Sono io, il controllore. Che t'hai? Cosa t'ha da mangiare alle galline? Ma che non ci vedi? Magna lo mancime, lo mancime dello consorzio lo so comprato, eh? Ci so speso pure 15 euro, eh? Ma ce l'hai il bollino rosso? Bollino? Ma che bollino? Lo so comprato qua dello consorzio di franguccio. Che bollino? Già è tanto che mi ha fatto lo scontrino. Ah sì? Bene. 200 euro di multa. Che cazzo fai trovando quella mattina? E vola, 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 e vola Luca. Scusi, scusi, cosa t'ha da mangiare adesso alle galline dopo gli esperimenti che ha fatto e dopo i nostri consigli? Guarda, io non faccio niente. Io ogni giorno io lascio 5 euro se mangio quelle che cazzo se fai. Non faccio niente. Grazie.